Maurizio Zaccherotti, vicepresidente UISP, presidente dell'associazione Terramare, oggi sia per Terramare che per UISP è un'altra bella giornata perché è proprio il caso di dire che si pulisce il fiume Ombrone, Zaccherotti. Sì, oggi è una giornata esemplare, un momento importante dal punto di vista del rispetto ambientale ma anche dal punto di vista sociale perché stiamo facendo un'operazione utilissima per tutta la comunità. L'elemento Ombrone, l'elemento del territorio che lo caratterizza, il fiume Ombrone è un qualcosa che ha sempre condizionato il nostro territorio sia in negativo ma soprattutto in positivo, ad iniziare anche da quello che è appunto le opere di Bonifia. Quindi oggi noi siamo riuniti perché oltre che fare un'operazione di pulizia, di rimozione dei rifiuti, facciamo anche un po' di educazione ambientale. Questo è un qualcosa che accomuna UISP perché UISP è sport, ambiente e solidarietà e noi come Terramare cerchiamo di portare avanti questo importante messaggio. Abbiamo coinvolto due scuole, l'agrario e il commerciale sportivo, una truppa da terra che pulirà quindi sulla sponda destra orografica e una truppa in acqua con i gommoni che è il commerciale sportivo che pulirà poi la parte della sponda sinistra orografica del fiume Ombrone. Questa è una località importante, il Berrettino è una località storica del nostro territorio. Qua c'è una struttura risalente a fine 1700 progettata dall'Oxivenes e quindi questo fa capire l'importanza di un luogo che purtroppo negli anni è andato via via degradandosi. Quindi per noi è un onore essere qui anche oggi a fare una bella iniziativa. C'è anche l'Istituto Agrario Leopoldo di Orena oggi sul fiume Ombrone per la pulizia dell'argine e del fiume stesso con la professoressa Ilaria Caponi stiamo a parlare dell'attività dell'agrario. Professoressa, i vostri ragazzi si stanno occupando della pulizia a terra? Sì, i ragazzi stanno facendo una prima differenziata nella raccolta per cui operano una prima cernita del materiale di recupero e quello che devono imparare è di riconoscere le varie tipologie di rifiuto e imparare a differenziare. E già è stato fatto un primo lavoro con i gommoni a maggio per cui avevamo già individuato delle aree insieme alla WISP per il recupero del materiale e ora stanno operando via terra. Si parla tanto di ambiente, si parla tanto di giovani che vogliono che l'ambiente sia più pulita. Questa è un'iniziativa vera in cui i giovani possono essere protagonisti. Sì, anche perché Leopoldo di Orena è anche gestione del territorio per cui la gestione del territorio ricade anche la gestione dei rifiuti a tutto tondo, sia per quanto riguarda le aree di deposito occasionale come può essere questo, sia poi nel proseguo degli studi anche individuare le aree di stoccaggio, riconoscere le aree di stoccaggio dei rifiuti. Come è nata la collaborazione con WISP e con Terra Mare? Ma è una collaborazione che va avanti in realtà da diverso tempo anche per altre attività sia su richiesta della WISP sia su richiesta della scuola. Questa cosa poi è convogliata in questa serie di attività che proseguiranno poi nell'arco dell'anno con altre occasioni di ritrovo, di collaborazione. C'è anche l'Istituto Commerciale Sportivo oggi sul fiume ombrone per la pulizia sia dell'acqua che delle sponde con la professoressa Gabriella Corsani. Siamo a parlare dell'attività dell'Istituto Commerciale che appunto si occupa della pulizia in acqua. Professoressa, come sta andando oggi? Sì, tutto bene, i ragazzi sono entusiasti anche se non sono molto numerosi, però per andare ovviamente con rafting dobbiamo essere un numero esiguo. È un'esperienza che sta finendo perché noi abbiamo già cominciato l'anno passato con l'esperienza di sap, canoa e rafting e stamattina abbiamo questa pulizia del fiume, quindi tutela dell'ambiente in collaborazione sempre con la WISP e Terra Mare che ci ha seguito in questi due anni. Ovviamente è particolarmente importante coinvolgere in un'attività così, diciamo pure ambientale, le nuove generazioni. Sì, è un lavoro che dovrebbero fare volentieri, stiamo a contatto con la natura, una giornata veramente immersi nella natura e noi soprattutto nella parte acquatica. Quindi i ragazzi tramite i gommoni sforcheranno le sponde del fiume ombrone per riuscire a ritirare qualche oggetto che troveremo là e pulire diciamo le nostre sponde. Chiara Fornaro della ditta EVR che oggi si occupa del recupero dei rifiuti che verranno recuperati nella pulizia del fiume ombrone fatta da Terra Mare, da WISP e dalle scuole cittadine. Oggi anche per voi una bella giornata. È una giornata molto importante, infatti la nostra ditta ha dato appunto la disponibilità piena a questa iniziativa. Quando Maurizio Zaccherotti di Terra Mare ha chiesto alla nostra azienda di fornire il camion e tutta l'attrezzatura per fare questa operazione di pulizia, siamo stati molto contenti di contribuire a questa cosa. Quindi abbiamo messo a disposizione il camion, i big bag, abbiamo illustrato ai ragazzi come suddividere i rifiuti dividendo in maniera corretta la plastica dall'alluminio, dal vetro e quindi insomma è stata una cosa molto piacevole anche per noi. Voi che vi occupate di servizi per l'ambiente e quanto sono importanti iniziative del genere per cercare di aiutare questo ambiente? Sono importantissime, anzi cercheremo di farne sempre di più proprio per sensibilizzare le persone verso questo tipo di cose, di iniziative. Quindi questa è solo la prima di una lunga serie, speriamo.